Buongiorno a tutti i nostri lettori di I'm Italian e ascoltatori, siamo qui con Viviana Dragani che è una cantante, una speaker radiofonica, nonché produttrice del programma radiofonico ItaliaEco. Allora, so che è uscito da pochissimo un tuo album di jazz che è stato realizzato con musicisti di un certo livello, oltre che naturalmente anche con la tua presenza e quindi siamo qui per saperne qualcosa di più. Sì, innanzitutto grazie mille per questa opportunità Susanna e sono molto felice di poter parlare delle mie insomma creazioni, tra virgolette, il mio programma radiofonico, il mio album e sono molto davvero felice di questa recente uscita, il 31 marzo, Liriche Oniriche, questo è il titolo, è su tutte le maggiori piattaforme digitali, quindi Spotify e iTunes lo trovate. Io appunto sono alla voce e ho l'onore di condividere questo sogno, tra virgolette, con musicisti di altissimo livello che saluto, Giuseppe Tringali per esempio alla batteria e Alberto Fidone al contrabbasso e Maurizio Laferla che è anche l'autore, il compositore di queste bellissime melodie al piano. E quindi questo è un progetto che in realtà non è nato da una mia idea, io sono, diciamo, ho contribuito come interprete a realizzarlo, è nato da un'idea di Maurizio Laferla ed è un progetto molto vecchio, vent'anni fa Maurizio Laferla ha letto delle poesie di Orazio Caruso, è rimasto folgorato e non c'è stata però mai, diciamo, l'occasione di sviluppare un progetto vero e proprio, diciamo che c'era l'idea. E poi è arrivata improvvisamente nell'opportunità la collaborazione con gli altri musicisti e, diciamo, hanno poi raggiunto me. Io, diciamo, bazzicavo già nell'ambiente swing e jazz da parecchi anni perché ho cantato con il trio vocale Blue Dolls per più di undici anni quando vivevo ancora in Italia e quindi, insomma, lui mi conosceva, mi ha contattata e io ben volentieri quando ho visto il tenore, insomma, delle composizioni sia dal punto di vista musicale che dal punto di vista letterario ho detto sì, ben volentieri, mi sembra un progetto valido. E quindi dopo un anno di lavoro su questo album finalmente è uscito e potete ascoltarlo appunto su tutte le piattaforme digitali principali. Perfetto. Infatti ti stavo per chiedere quanto tempo avevate messo per la realizzazione, quindi ci ha voluto un anno addirittura, insomma. Sì, perché comunque... Sì, anche perché comunque eravamo lontani, è stato registrato a distanza tra Stati Uniti e Sicilia perché loro sono siciliani e quindi sì, questo ha reso le cose un po' più complicate. Comunque sta per uscire anche un videoclip del singolo che si chiama Una canzone semplice e Sì, diciamo che abbiamo bisogno di sapere come aspettare. Ma, you know, a volte c'è un sentimento che hai stato aspettato molto lungo. Sì, ma, io sono un uomo, ho bisogno di un uomo, ho bisogno di un uomo, ho bisogno di un uomo. Sì, ok. Sì, ok. Allora, dunque tu sei a Boston, ti ci sei trasferita nel 2017 e quindi adesso cosa stai facendo lì? So che, appunto, come ho detto, sei produttrice di un programma radiofonico e cosa stai, diciamo, di che cosa tratta e che tipo di programma radiofonico è, cosa fai? Sì, allora, il programma radiofonico si chiama Italieco e abbiamo, sì, è come un eco che arriva dall'Italia e la nostra radio, che si chiama WNTN Radio Boston, è una radio internazionale, cioè trasmette programmi per le comunità etniche locali sparse nel territorio di Boston. Sappiamo che ci sono tantissimi italiani, ci sono anche però tantissimi irlandesi, quindi abbiamo il programma irlandese, il programma greco, Grecian Ecos. Quindi abbiamo un programma il cui target è una comunità specifica e io conduco quello, appunto, per la comunità italiana. Quindi cerchiamo di valorizzare gli eventi che vengono organizzati qui sul territorio per la comunità italiana. Abbiamo iniziato anche di recente a collaborare con il Consolato Italiano, che è una cosa che ci fa ovviamente onore. E poi trasmettiamo musica italiana, 100%, quindi pop, rock, musica contemporanea. E questo è molto bello perché nelle radio italiane, scusa, radio americane, al di là dei Maneskin, non ci sono molti artisti musicali italiani che vengono trasmessi, anzi direi che sono proprio gli unici. Quindi stiamo cercando di far conoscere anche, appunto, artisti contemporanei qui in America. E poi un altro obiettivo del nostro programma è valorizzare la lingua italiana, lo studio della lingua italiana qui. Purtroppo ce n'è bisogno di valorizzare lo studio della lingua italiana, promuoverlo, perché abbiamo notato negli ultimi anni una diminuzione, ecco, degli iscritti. Ad esempio nei college americani si tende a studiare oggi altre lingue, l'arabo, il cinese. Quindi stiamo cercando di fare questo lavoro anche, appunto, in collaborazione con il Consolato per, appunto, promuovere lo studio di questa lingua che è bellissima e merita davvero anche della letteratura e della cultura in generale. Quindi sta un po' perdendo, diciamo. Un pochino negli ultimi anni, sì. Però tu fai anche altro lì a Boston, presti anche la tua voce per delle pubblicità. Esatto, esatto. Sì, sono una speaker radiofonica e anche, se così vogliamo definire, voiceover talent, così viene detto qui. Cosa significa esattamente voiceover? Voiceover è voce fuoricampo. Ah, ok, ok. Quindi un voiceover talent o voiceover artist o voiceover actress, come volete chiamarlo, è una persona che presta, appunto, la propria voce per esigenze di qualunque tipo di, ad esempio, per pubblicità, video, aziendali, formazione anche. Quindi e-learning, formazione a distanza. Le opportunità sono veramente tantissime e ovviamente quello che preferisco fare sono le pubblicità, perché lì c'è la possibilità di esprimere, diciamo, dei sentimenti. Oggi sappiamo che le pubblicità tendono a smuovere, no, determinate corde, toccare determinate corde e smuovere un po' le emozioni. E quindi la cosa che preferisco è questa, fare pubblicità e usare la voce in modo emotional. Però la presto ovviamente per qualunque tipo di esigenza. Certo, certo. Questa è una cosa che non conoscevo, per esempio. Allora, quando è che hai scoperto, diciamo, di avere talento, di essere appassionata, di voler usare la voce, di fare questo tipo, diciamo, di realizzarti in questo modo? Da piccola è successo qualcosa, hai avuto, insomma, qualche esperienza che ti ha portato poi a capire che questa era la tua strada? Ma non c'è stato un momento specifico in cui, diciamo, ho deciso voglio fare questo. È stato tutto molto graduale e penso che quando dentro si ha una scintilla, chiamiamola così, di artisticità, poi quando ce l'hai, ce l'hai e devi assolutamente esprimerla. È un'urgenza, cioè non è una cosa che fai per soldi o non è una cosa che fai perché decidi. È una cosa che decide per te, è un po' il contrario. E quindi io ho sempre avuto la necessità, fin da bambina, di esprimermi in modo artistico. A quattro anni mi diceva mia mamma che andavo in giro per casa in punta di piedi e volevo ballare. E quindi mi hanno iscritta a un corso di danza e da lì ho continuato a studiare danza fino a 25 anni e mi sono anche esibita in alcune compagnie professionali per alcuni anni. E poi da lì è nato il discorso canoro perché all'interno di un musical in cui io ballavo semplicemente cercavano delle coriste. E quindi ho fatto un'audizione per fare la corista e mi hanno detto Ah ma sai che sei intonata naturalmente e hai anche un bel timbro. Io ho detto Ah sì ma dai. E quindi mi hanno consigliato di studiare per migliorare insomma perfezionare la tecnica che non avevo perché non avevo mai appunto studiato in maniera seria con nessuno. E quindi ho iniziato con lezioni private. Poi sono entrata in conservatorio. Ho studiato canto lirico in conservatorio per due anni. Poi ho capito che quella non era la mia strada perché io comunque ero già appassionata di swing, di jazz, comunque di canto moderno, anche pop. E quindi ho abbandonato, anche se ahimè ha mal in cuore, il conservatorio al secondo anno e mi sono dedicata a tempo pieno a questi spettacoli, a questi concerti che organizzavamo in giro per l'Italia e anche per l'Europa siamo stati comunque in Svizzera, siamo stati a Casablanca, siamo stati in Turchia, ad Ancara. Abbiamo girato veramente moltissimo con questo trio vocale proponendo appunto lo swing degli anni 30 e 40, quindi una musica vintage con costumi d'epoca. Era uno show veramente bello da vedere, oltre che da ascoltare ovviamente. E quindi ti dirò, non c'è stato un momento. Un po' è successo per caso. Questa cosa del canto è capitata proprio per caso, mi hanno scoperta per caso. E il resto, la danza e lo spicheraggio, è nato anche lì per caso, perché ho detto proviamo. Questa cosa potrebbe fare per me, recitare potrebbe fare per me. E quindi anche lì ho recitato sempre in spettacoli in cui cantavo, ballavo e recitavo. E mi è venuto sempre tutto abbastanza naturale, devo dire la verità. Non l'addizione l'ho studiata da sola, da autodidatta, sui libri e se hai un minimo di orecchio poi ti entra abbastanza facilmente in testa. Quindi direi tutto per caso. È arrivato tutto in maniera naturale. Naturale, da una scintilla, ripeto, che avevo dentro. Bello, bellissimo. Quindi diciamo in Italia anche hai avuto, come stavi dicendo adesso, queste esperienze sia a livello musicale che anche di spicheraggio. Anche in Italia conducevi un programma radiofonico che invece, se non sbaglio, riguardava libri, recensioni, autori di libri. Era insomma più sulla letteratura. Sì, esatto. Un'altra passione che io ho è appunto la letteratura. Sta andando un po' in disuso, ma questa passione. Comunque io sono laureata in letteratura spagnola. Infatti ho anche registrato tra i vari album, un album monografico su Carlos Gardel, cantato tutto in spagnolo proprio perché amo questa lingua. e dicevo, proprio perché ho amato tantissimo la poesia che è letteratura musicale, ecco perché l'amo così tanto perché colgo la musicalità che c'è dietro, proprio perché amavo appunto leggere i grandi autori e li ho studiati per forza di cose per il mio percorso di studi, ho deciso di appunto creare un programma che si chiamava Volta Pagina su Radio Energy, che è una radio locale di Torino. Quindi per sette anni ho condotto questo programma su Radio Energy, finché poi appunto ho cambiato percorso, mi sono trasferita. Però è stata una bellissima esperienza dove appunto ho imparato anche come intervistare le persone, come metterle a proprio agio e tutte queste comunque competenze le ho portate poi con me. Il nuovo programma, certo, certo, immagino. Quindi ecco, adesso poco fa hai nominato anche un album dei successi di Carlos Gardel e diciamo c'è stato quindi prima di questo album che è appena uscito ci sono state altre esperienze come cantante, oltre a quest'album che, se non erro, è di tango. Tango cantato, sì, noi siamo abituati al tango come qualcosa che si balla, ma in realtà nasce come tango cantato e poi è diventato prettamente strumentale e quindi io ho voluto recuperare questi brani bellissimi con dei testi molto passionali per farli conoscere in Italia perché appunto non sono molto conosciuti, non ci sono molte rivisitazioni di questi brani di Carlos Gardel e sì, penso che sia un bel lavoro, potete trovarlo, è su ebay questo. Eh, infatti ti lo stavo per chiedere dove potevo trovarlo perché a me la musica di tango piace tantissimo, sono appassionata, quindi mi interesserebbe molto sentirlo. Sì, potete cercarlo su ebay, è con un sestetto, quindi una formazione un po' più grande, sì, violino, contrabbasso, piano, insomma, ci vuole bandoneon ovviamente, che è lo strumento principale. Sì, certo, bellissimo. E invece con, diciamo, hai avuto anche un'altra esperienza, un album pop. Sì, un album pop, ho registrato un album pop di brani inediti, si intitola Il ricordo di te, anche questo lo trovate sulle principali piattaforme digitali, se volete ascoltarlo. E sono brani, anche questa volta io non ho scritto, non ho composto niente, sono state interprete e il compositore si chiama Domenico Centorrino, lui ha composto musica, ha composto i testi ed è un album anche questo di grande valore perché gli arrangiamenti sono veramente ben fatti e c'è un'orchestra, un arrangiamento orchestrale dietro e con dei solisti ovviamente che suonano assolutamente dal vivo, non c'è niente di campionato, quindi è veramente un bel album, ben realizzato e molto romantico e ve lo consiglio assolutamente. Lo andremo a cercare anche questo allora. E rispetto invece all'album appena uscito e chiaramente anche al video che attendiamo in un paio di mesi, ci sarà poi, non so, farai qualcos'altro rispetto all'album, non so, magari un concerto, qualcosa che lo porti in giro, lo promuova oppure no? Sì, stiamo cercando per adesso di promuoverlo ovviamente sui social network e sì, l'idea sarebbe di portarlo in giro però qui negli Stati Uniti, non in Italia. Quindi sono alla ricerca, anzi faccio un appello, sono alla ricerca di musicisti jazz talentuosi che vogliano portare in giro nell'area di Boston questo progetto che è davvero, secondo me, particolare come progetto. Non è banale, le musiche non sono banali per niente. I testi non sono solo in italiano, tra l'altro, ma sono anche in inglese, quindi è perfettamente fruibile, insomma, qui. E anche addirittura c'è un brano in francese che è stata un po' una sfida per me perché appunto io parlo fluentemente spagnolo, inglese, ma non il francese, quindi quella è stata una sfida. Bella sfida. Sì, perché è un album con molte suggestioni e una di queste suggestioni sono gli chansonni francesi che hanno ispirato appunto uno di questi brani. Quindi è un album veramente vario e quindi consiglio di non ascoltare solo un brano e dire, vabbè, perché ogni brano è a sé stante proprio, quindi ascoltateli tutti perché veramente ognuno è un quadro a sé stante e si chiama liriche oniriche perché il tema conduttore è proprio il sogno, la dimensione onirica e anche l'opposto, cioè la disillusione quando i sogni in qualche modo non si avverano. Ok, bellissimo. Grazie a te, Viviana, grazie per averci fatto entrare nel tuo mondo, per averci raccontato un po' di te. In Italia nei lettori ti ringraziano per questa disponibilità, insomma, per questo incontro e magari, non so, in futuro potremo rincontrarci per un altro tuo progetto, per un'altra cosa che stai facendo. Quando vuoi, quando vuoi, anytime, come dicono qui. Allora, grazie, buon proseguimento. Ci sentiamo presto. A presto, ciao. 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 Ciao.